buongiorno buona domenica a tutti no in giro è morto marco che è successo scraccato in giro ma che password non mi faccia dire con facebook impazzito e allora primo match di questa bronze league giornata 4x edition borussia dortmund contro rubin kebab sono le squadre in questo momento si stanno giocando tanto si giocano la rincorsa ai gunners che comandano la bronze league a 9 punti a punteggio pieno il borussia ne ha sei dopo tre partite perché ha perso lo scontro la diretta proprio con i gunners rubin kebab invece ha vinto le prime due vincendo la settimana scorsa contro gli spurs e allora vediamo un po e se non mi sbaglio contro i red devils hanno vinto la prima partita una l'hanno rinviata sono a sei punti sono ancora a punteggio pieno macri tra i palli de angelis di marino giorgio messina cirillo con vece e la manna più avanti la manna tra l'altro grandissimo gole a torre nella scorsa settimana il borussia perso la mine si sei in mezzo alla strada non si sa dove stanno non so se arrivano c'è fusco faffo maranta carbone la ragione basile e appunto per ora sono in sei cirillo morbida secondo palo cirillo ci prova messina fusco in due tempi invece possesso rubin primo dei quattro match di questa domenica mattina ieri abbiamo visto una silver ormai lanciata allo spettacolo con le prime tre squadre né tre punti con capros wimbledon e galacticos giocarsi questo titolo almeno per le prime quattro giornate scusate un po la voce è stamattina ieri stadio la silver la platinum venerdì quale corde vocali si infiammano di marino o ma qua ci vuole giubbino e stamattina ma vado a prendere di marino alza il pallone troppo lungo vediamo cirillo occhio ai saltatori parte il cross la manna buca loro ufficiale la minne si si non potranno essere della partita probabilmente i preti hanno deciso non possono varcare il cancello della chiesa cirillo che sterza poi ancora lui occhio perché in area di rigore c'era messina ignorato invece assedio rubin cirillo de angelis sale destro la ragione respinge poi carbone il pallone verso faffo che può lanciarsi ancora faffo corre basile che allarga ammaranta de angelis due volte rimessa per faffo palla dentro l'aria salta de angelis occhio di marino c'è anche cirillo anzi la manna la manna la manna di marino la manna stop ora la manna fusco diventando centravanti la manna rimessa per il rubin pallone dentro per dice di marino triangolo vece destro largo anzi messo come per le petit diablo che avanza prova addirittura la conclusione la ragione di marino respinge poi maranta sul pallone lascia uscire la manna non trova l'impatto bravo che ora gioca gioca 40 esce carbone recupera messina buon fraseggio di rubin di marino si allarga il pallone si si con quello si messina pallone che torna sul suo testo usco le petit va cerca la conclusione tutto viola la manna trova l'impatto per l'uno a zero ancora beppe la manna dopo il poker della settimana passata otte ripletta ancora lui che non ride mai tripletta si la settimana scorsa contro gli spurs 1 a 0 la ragione salta faffo vece sul pallone la palla alta cirillo attende il movimento di un compagno prova a saltare l'amanzi maranta si già sedendo caldo prova col destro deviato fusco ma cirillo parte il cross saltano tutti col tacco di marino che stava facendo credibile carbone occhio porta vuota trova la trova macchina ma fabbrini un fabbrini un fabbrini che c'è che gioca con l'ho che lo faccio a primi ma c'è la bottina cirillo recupera arriva vece ancora cirillo porta la palla in area di rigore sinistro fusco ancora cirillo calcio d'angolo noi fondo tutti 111 di marino faffo e recupero 1 a 0 per il rubin cirillo tiro deviazione maranta sul pallone prova a correre l'ultimo tocco il suo messa per messina palla dentro la ragione rinvia macri fuori aria tocco timido verso de angelis ma il lancio occhio la manna destro tutto fermo tutto fermo parte il rinvio de angelis due volte cirillo allarga tutto verso di marino che non aggancia parte cirillo a campo aperto prova col destro murato faffo rinvia di marino arriva anche cirillo palla per messina tocco per cirillo trovano cercano intesa ancora uno due pallone che esce anzi non è uscita ragione sbaglia arriva vece ruba palla faffo non riesce a spazzare ancora faffo che spinge occhio a retropassaggio la manna recupera sinistro forse deviato da fusco cross di cirillo saltano tutti carbone mette fuori de angelis prova la gran tiro basile sul fondo messina di angelis cerca il destro la ragione a dare una mano al borussia interviene valerio fabbrini del mignottingham giocherà dopo arrivato in grande anticipo e allora cercherà di far giocare con la parità numerica al suo borussia disponibili per questa mattina la minnesis è capitato già contro l'arsenale il borussia era riuscito a far punti sta capitando anche oggi fabbrini carbone ancora fabbrini basile finta di marino chiude il colpo di testa di cirillo la manna appoggia messina palo e poi rovesciata di maranta ancora messina due lenni per il rubin maranta chiude la deviata messina la rimessa per il borussia maranta per basile alza il campanile salta de angelis arriva anche fabbrini qui sta la rimessa faffo cerca ancora fabbrini colpo di testa poi pepe la manna la zalla gamba c'è faffo due compagni squadra della carol la manna e faffo l'invio di fusco carbone controllo fallo se un dislessi quanto basile sul muro aspetta va vece destro fusco fusco fallo segnare messina parte un lancio d'esterno faffo carbone aggredito si continua fabbrini sale lui va da faffo tocco centrale sbagliato vici interviene la manna tre contro due sale la manna l'unico le mani verso sina e con coraggio ha provato una bordata al volo non è stato fortunato peccato sarebbe stato quasi per sol cavo perso carbone se ne va dice ci prova basile ha pareggiato il borussia 11 segnato il capitano lanciato fabbrini pece poi de angelis carbone faffo basile cdllo su di l'ultimo tocco di basile la rimessa per il rubin 1 a 1 risultato siamo ormai alla fine del primo tempo cirillo recupera ancora lui tocco dentro e angelis attenzione mamma mia ti sei fatto male aldo finisce primo tempo 1 a 1 tutto pronto per la ripresa siamo 1 a 1 tra rubin kebab e borussia tira carbone anche fabbrini si vada alla ragione provava addirittura la conclusione prima giornata di sbordone capo ma seguiamo intanto la manna controllo malvagio faffo dentro fabbrini pallone ancora verso d'ambrosio fabbrini triangolo casuale ma efficace va maranta perde la sfera cirillo riparte la manna ruleta poi cirillo un'area di rigore macri blocca stai arrivando il mignotti in gama parlone recuperato da maranta la phalloga e poi riconquistata peppe la manna c'è un fallo la ragione sbaglia fa fuori media fabbrini controa nessuno invece cirillo lancio deviato basile sporcata la conclusione allora la privata di marino parte un lancio molto lungo troppo con gli occhiali si leva tocco dentro carbone non riesce mette il corpo avanti non passa poi si stersa ancora lui fabbrini recupera vediamo se prova ma sta giocando con ma scarpetta riparte visce va centrale visce visce ancora palla per cirillo sceglie il destra cirillo salta il primo non il secondo e poi sbatte sulla ragione grande controllo di la manna su una palla lunghissima ideangeli sconquista rimessa laterale ma messina palla dentro salta faffo invece poi fusco con le mani pallone che passa di angelis va a saltare messina sale lui tocco battuto la manna maranta sempre e solo uno a uno cirillo bravo maranta bravo palla dentro faffo di testa vice vice carbone poi arriva di angelis ancora di angelis che sterza bene con la pace palla per messina al tocco centrale di angelis vediamo si prova a chiudere l'azione di marino saltava fabbrini ancora di angelis che la rimescola e la manna la tiene in capo no fuori doveva deviare la prima la mamma invece di testa cirillo non riesce a prenderla poi entrambi poi c'è fallo di cirillo fabbrini messina su questa palla vagante sinistro carbone grande intervento di di marino parte il cross secondo palo salta vece poi parte cirillo l'ultimo tocco di maranta cirillo batte subito trova la manna c'è largo di la messina il tocco per lui messina destro murato vece messina ancora vece buono il dribbling ancora vece sinistro deviato cirillo parte il cross fabbrini palla dentro occhio rimane in area di rigore poi basile prova a uscire allunga la carbone macri ma chi è che ha urlato ma non è sportile che è stato difensore non è stato difensore di Stefano di Stefano ma non è stato difensore faffo basile bazile cip3 a invece Fusco è quotato a 24-25 Carbone mette giù prova a girarsi De Angelis chiude bene si lancia De Angelis ma io gliel'ho passata Faffo le spinge De Angelis prova ad allungare a Cirillo contro Faffo le mani c'è fallo si continua ah no è fallo l'invio di De Angelis la manna la manna limite l'aria poi esce tocco dietro invece sbatte la ragione allunga Carbone sul pallone Messina sterza ancora Messina vada invece Di Marino la manna di testa sbaglia ma comunque c'è invece Messina cerca qualcosa non trova nessuno ma lui è direttamente a Cor anzi a Macri con il lancio parte lui la ragione di Petto invece stinge la manna fuori di nulla prova the mind la manna prova a recuperare lotta con Basile 10 minuti alla fine di questo match di 1 a 1 il risultato occhio al finale perché la partita è su in bilico è su un filo sottilissimo andiamo Basile Basile a sorpresa Macri la manna fallo la manna è uno schema e invece fa il difensore aggiunto Fabrini mamma mia ha battuto il robottino è morto è morto la ragione è Macri e poi Carbone ha segnato Carbone 2 a 1 incredibile vantaggio Borussia la manna prova sto fermo l'invio di Messina sono pronte Morecambe e Mignottingham a darsi battaglia guardate Aiello quanto è carico sta ancora dormendo tossico occhio Macri esce lancio lunghissimo parte Aldo La Paglia che recupera De Angelis De Angelis cerca qualcosa Faffo poi Cirillo in mezzo a 2 Basile prende spazio e rinvia Messina Vece carica al sinistro cerca Cirillo occhio al fraseggio all'epetit Diablo ha pareggiato proprio lui Cirillo 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 De Angelis vuole vincerla vuole vincerla la Paglia vediamo Palla dentro salta Faffo la ragione parte rinvio lunghissimo ok questo finale incandescente la manna si gira non trova però spazio Di Marino pasticcia la palla che passa all'epetit ancora lui contro Basile pallone lungo Messina apre a caso e male D'Ambrosio Basile ancora prima c'è stata una 120 e allora hai fatto tre foto era impossibile erano 120 occhio a Cirillo ancora lui parte il cross svirgola la palla tutto solo Fusco ancora la manna occhio contatto contatto schioppa che hai detto è rigore è rigore vai allora vai vai parte il cross con po' di testa De Angelis Basile Macri De Angelis la manna ancora lui De Angelis apre Cirillo prova attraversa Messina ancora De Angelis Patelancio vice ancora vice non passa Basile contro due Cirillo recupera prova la rouletta se ne va ancora lui sterzata ancora pallone colato al piede cerca il passaggio non lo trova però allora rinvio di Marino ultimo uomo occhio Basile parte il cross Macri smanaccia e poi De Angelis spinge che partita prova De Angelis manca pochissimo Carbone colpito dal pallone parte il rinvio la palla non esce Fabrini liscio Fabrini al volo è finita è 2 a 2 si dividono la posta allora le petit 2 a 2 dopo due vittorie si arresta la ferma del vostro Rubin salite però a 7 punti siete ancora imbattuti come media punti siete a meno due lunghezze dall'Arsenal che partita è stata cos'è mancato oggi per i tre punti devo sfruttare meglio la superità numerica la mia frazione di gioco quando loro erano in meno e per tutta la sfortuna abbiamo preso diversi palle traverso tre legni colpiti quindi secondo te siete sulla strada giusta e questa è la strada per correre per fare un ottimo campionato di bronze league si direi è stata comunque una buona partita abbiamo giocato bene è mancato solo il gol finale è una dedica particolare per il tuo bellissimo gol no va bene allora salutiamo Cirillo complimenti salutiamo direi Rubin Kebab e tra poco tocca a Mignottingham More Camp